ecco qua la figlia andiamo la figlia è mia figlia è sua figlia ma tu hai la mamma la mamma puttanella la mamma puttanella la mamma puttanella è una amicatrice la mamma puttanella l'ho comprato io intervista 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 la domanda perché sono così bella perché sono così tuttanella perché sono così tuttanella perché io non faccio contattere tante ragazze e qui in quanto è più o meno? 5, 6, 7, 8, 9, 10 stiamo scendendo dall'acqua no? potevamo rimanere un altro po' un altro po' al suo modo devo un quadro sempre a lei lascia stare chi è il nipote che è più importante? andiamo a intervista Pesarino incordiamolo Pesarino il nostro ex professore coglione ma è un mito no? è un mito per le scuole medie quello con gli occhiali con i capelli con la pelle bianca che parla con caperone si raccoglie che lui corriamo noi cambiamo il traiettore e non vuoi andare più dietro più dietro più dietro prego prego aspetta un obiettivo un obiettivo allora 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 andiamo allora i coglioni che vanno col surf almeno vuocato no? no poveretti quando sono a 20 mila metri da la schiaccia oh ti sta rubendo surf no 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 ciao papino mi vuol stare a fuggire delle pezzi piccoli frate ciao papino eeeh le persone escono sul surf sto fortissimo ce l'ha tiratrice di corda andrea cerca di imitare davide sopra la uuuu vediamo che si muove ora incredibile attenzione che l'acqua è finito non lo smeri che bravo a te quando copra il surf guarda che calazze nelle mare anche ora lì ci so dicine che avanzano si sapea però sono veloci parliamo sulla spiaggia è caduto è caduto è caduto è il grande coglione è l'unico a cadere è caduto incredibile nooo è rivalita possiamo andare possiamo andare no ti torna indietro andiamo a spedere se non mi posso si ma rimasti senti solo la voce non vale aspetta lui è il coglione che ci aveva delle camera esatto era io aspetta e no che fai al contrario va bene è uguale ci sono cose che esiste allora andiamo intervistare qualcun altro ora 2 anni 2 anni 2 anni no Artura verso Artura mio dio andiamo ciao 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 torna no? sì eh più qua no no devo andare a bagnare che faccia? sono allergico all'acqua perchè sono allergico all'acqua perché sono allergico all'acqua bagnami dai coraggio aspetta questo è il coglione che sta parlando questo è il coglione che sta riprendendo giusto? questo è il coglione di mio fratello figurate? sì 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 e lui chi è? il coglione cannaggio con te stesso stagnone tu sei? 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 inquadra inquadra sei? chi sei? nooo vai 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 e cade incredibile la squalifica non dice più niente ci siamo uscire allora tommasino elvio e chi 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 chi? un giro con la y c'è giovanni era molti anni che sognavo questa medaglia adesso è mia navigatrice non giù puttanella sei? andrei 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 così bene con l'appareccio con il coglione ma ci vediamo con la nostra sferizione navigatrice andiamo da Arturone no 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 andiamo da Arturone vai si si te lo sto facendo ma sei stato squalificato mi dispiace che se andrei è caduto e andavate solo a coppia è una vergogna qualificato sono una vergogna stanno portendo la palla stanno penalizzando gli italiani dopo il surf anche la palla ci portano questo qua era oro e il record del mondo eh ma è caro che andrei è caduto quindi tutto annullato sono squalificati tutto annullato mi dispiace il bambino perfetto di fregare i palloni con grande classe maestro già da piccolo guarda ci sta il vipo guarda ci sta buonasera siamo al giorno buonasera mi scusi cosa ci fa se uno sulla sedia? mi sembra giusto che ci vincano tutte le medaglie e noi italiani veniamo squalificati non bisognerebbe andare più ecco è giusto quindi mi piglio una medaglia d'oro no perché tu sei caduto ormai eh sono caduto sei caduto no inquadra un po' mentre giochiamo tu l'hai visto l'atleta sulle anelli che è stato il migliore si ma lui ha detto di non essere stato il migliore eh no 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 ha detto lui no 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 si si è stato il migliore ma lui ha detto di no quindi va bene bene questo che vuoi che è stato per pazienza io sono cinese non posso mettermi dalla parte dell'italiano ho visto il medagliere del teatro eh infatti però tanto oggi vinco io la medaglia per il miglior scatto il miglior scatto e il miglior video soprattutto cosa c'è dietro se andiamo a vedere dietro cosa c'è cosa c'è cosa c'è lui ah lui ah forse dobbiamo andare a giocare a schiacciacinque andiamo a vedere forse devi stoppare no come si fa dobbiamo andare a vedere come si gioca a schiacciacinque cosa non si fa taglia si taglia allora andiamo a vedere come si gioca a schiacciacinque andiamo a vedere andiamo a vedere come si gioca a schiacciacinque andiamo a giocare a schiacciacinque si prepara inquadra il tiro tiro potentissima l'azione significa un grande tiro rigore grosso attenzione al tiro il nuovo se ne sta andando con la palla mi riesce bene ora andiamo a giocare a schiacciare 5 schiacciare 5 schiacciare 5 dimmi 5 butta la palla in acqua sezione c'è cosimino con tommasino che stanno cercando di nuotare ma questo non è il ricordo del mondo sezione arriva direttamente sopra me fortissimo il nostro fenomeno fenomeno scappa perché no ma che mezzo fagliaccio fagliaccio 5 e si aspettando ancora di qualcuno che era schiacciare 5 che deve inquadrare incredibile fortissimo a zero più acqua possibile grazie a tutti Grazie.